Oh ma chi si incontra? Stile ed eleganza? Anche qua è l'identity black, è arrivata sul mercato e tutta la gamma Q3 e Q5 è pronta a stupirvi come con i suoi accenti che la caratterizzano, total black, dalla mascherina, le prese d'aria, gli specchietti e questi cerchi, facciamoli vedere, fantastici! Sulla Q5 abbiamo ben 21 pollici sport, cromati e sulla Q3 niente male neanche questi 20 pollici, finisce qua? No 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 no, andiamo dentro perché venite con me eh? Io non ho le chiave ma vediamo se è aperta, è aperta, è aperta, eccola qua! Oh e quando dicono che il nero è eleganza, detto total black, è davvero raffinati questi inserti neri eh? Che dire eh? Ha tutto power perché anche le motorizzazioni non scherzano ma per saperne di più vi aspetto come sempre nell'Ethere! Grazie a tutti!